Sì, che figlia! Quanto non riusciamo ad andare in là? E' un macchino. Comunque potevamo andare in là. Dici? Sì, sì. Ma perché? Quali sono i... Lì là in alto. Dov'è? Lì, lì. No, dici che arriva fino a lì su? Beh, vedete che... E' un apacheco qua. E' un barchetto qua. Ok. Un po' là lì? Un po' là.